Il 2021 è l'anno del PEI, del nuovo PEI, perché c'è stato un movimento incredibile nelle scuole da gennaio, da quando sono usciti i modelli ministeriali con le linee guida, sono usciti una serie di webinar, di incontri, è uscito il libro che abbiamo costruito ancora a gennaio con un gruppo di autori, di autrici molto folto, che ha preso i modelli e li ha sviluppati sia dal punto di vista teorico-metodologico, sia dal punto di vista applicativo. Come dire, tutto quello che c'è da sapere e da sviluppare per interpretare al meglio questa istituzione, io la chiamo, perché il piano educativo individualizzato nella scuola italiana è da anni, non dal gennaio del 2021, ma da decine d'anni un'istituzione fortissima a presidio dei processi di integrazione scolastica degli alunni, delle alunni con disabilità, per cui la tradizione italiana, della scuola italiana del PEI è forte. Questo è un passo in avanti che con quel libro appunto di gennaio abbiamo commentato, agganciato all'approccio ICF, agganciato all'approccio ecologico, per cui c'è stata un'operazione, diciamo, di tipo scientifico-culturale che ha messo le basi, diciamo, di questa operazione. Però poi, durante la primavera, durante le applicazioni che abbiamo cominciato a fare in diverse scuole di questi nuovi modelli, è nata l'esigenza di fare un passo in più, di fare un passo in più verso proprio l'utilizzo pratico e diretto di questi nuovi modelli, perché i nuovi modelli sono complessi, articolati, sono tanti campi, eccetera, per cui abbiamo detto coinvolgiamo ancora questa squadra di una ventina di autori esperti sul campo, nei diversi ordini di scuola, proprio per fare quel passo, diciamo, di concretezza ulteriore. Come dire, ma io sono all'infanzia, io sono una scuola secondaria di secondo grado, cioè cosa vuol dire nel mio ordine di scuola fare un certo tipo di piano educativo individualizzato? Questo nuovo che mi chiede tutta una serie di cose nuove, mi chiede per esempio di osservare il contesto, trovare facilitatori barriere, mi porta, diciamo, ad un'osservazione di quelle quattro dimensioni, da quella psicologica, neuropsicologica, cognitiva, metacognitiva, di relazioni, eccetera, che sono in parti simili, in parti diverse da quelle che ero abituato a frequentare ancora con la vecchia diagnosi funzionale, il profilo dinamico funzionale. Allora, questo ha portato ad un lavoro di sviluppo, diciamo, dei temi che sono nel testo fondamentale, in quei quattro volumi operativi che abbiamo chiamato proprio costruire, no? Perché devi costruirlo, non è una compilazione burocratico-amministrativa, è una costruzione di programmazione collegiale proprio dentro nel tagliare su misura l'esperienza scolastica dell'alunno con disabilità. Allora, dentro questi volumi operativi c'è dentro tutta la parte, diciamo, dell'osservazione, perché evidentemente non puoi tagliare su misura un percorso scolastico se non osservi, raccogli i dati, raccogli la conoscenza dell'alunno, dell'alunna, del suo contesto, delle attività, eccetera. E ci sono dentro proprio le, come dire, i percorsi obbligati, no? da fare per fare questo, ma soprattutto c'è una parte che secondo me è molto preziosa, che sono gli esempi, cioè le parti, le sezioni proprio scritte realmente, diciamo, da chi sul campo ha applicato questo. e noi abbiamo valutato che queste fossero delle buone pratiche, cioè delle cose da valorizzare e da porre come esempio, non da fare il copia e incolla, ma da prendere ovviamente l'ispirazione per dire, beh, insomma, questo è un buon esempio, insomma, su cui anch'io, insegnante, noi gruppo GLO, gruppo collegialmente costruito e collaborativo, possiamo prendere come riferimento, ovviamente modificandolo, chiaramente è chiaro che ogni situazione è diversa, però avere degli standard, chiamiamoli così, delle cose che possiamo porre come riferimento, questo credo sia interessante. Per cui, come dire, la filiera si sviluppa, cioè dal testo fondamentale, appunto, si arricchisce, chiaramente con l'attenzione spasmodica anche al fatto che fare un piano educativo individualizzato alla scuola dell'infanzia è completamente diverso che fare un piano educativo individualizzato nella secondaria di secondo grado, no? Questo per cui la differenza dell'ordine di scuola è ovviamente fondamentale. I quattro volumi operativi sono proprio operativi perché forniscono dei materiali concreti per compilare quelle che sono le dodici sezioni che costituiscono i nuovi modelli di PEI nazionale. In particolare abbiamo due tipologie di strumenti, di schede all'interno dei quattro volumi, degli strumenti di osservazione per lo più in ottica biopsicosociale ICF che vogliono aiutare proprio a delineare quello che è il funzionamento dello studente e della studentessa a 360 gradi tenendo in considerazione tutti quelli che sono i suoi punti di forza e le sue criticità. Momento fondamentale poi per poter costruire un buon PEI. E poi abbiamo anche delle schede guida che invece sono pensate più come delle schede che aiutano nella riflessione, nell'autoriflessione l'insegnante e gli insegnanti e il gruppo di lavoro di insegnanti che sono chiamati a redigere, appunto, a costruire, come abbiamo titolato questi volumi, a costruire anche quelle che sono le parti dove magari è necessaria una riflessione rispetto a quelli che sono anche gli obiettivi pedagogici, didattici da una parte e di progetto di vita dello studente. Infine abbiamo queste sezioni dove abbiamo voluto concretamente fornire degli esempi suddivisi per i quattro ordini scolastici degli esempi di compilazione proprio delle dodici sezioni. Si tratta di esempi concreti che gli insegnanti hanno portato avanti con i loro studenti, con le loro studentesse e quindi sono proprio esempi delle sezioni a cui si sono realmente ispirati nella compilazione. I quattro volumi consentono poi anche l'accesso c'è proprio un codice all'interno del volume per accedere alla piattaforma SOFIA che è la nostra storica piattaforma per la compilazione del piano educativo individualizzato che però si è anche lei aggiornata rispetto al decreto 182 2020 quindi è una piattaforma che già aveva una forte impostazione su ICF in prospettiva biopsicosociale con la proposta poi anche di numerosi obiettivi e attività però anche qui l'abbiamo allineata proprio a quelle che sono le quattro dimensioni e poi alla struttura dei dodici punti del nuovo modello. Questi dodici punti quindi si ritroveranno anche all'interno della piattaforma e questo permetterà quindi ai fruitori della piattaforma e anche chi storicamente già la utilizza di passare agevolmente anche alla compilazione dei nuovi modelli di Pay.